A Carbi di Cattolica, su terreno inaugurato una settimana fa dai giallorossi dei Cattolica SM, si sfidano Torconchi e Gambettola. I primi tra le rivelazioni di questo inizio torneo vogliono continuare a stupire. Gambettola cerca il colpo esterno, ma di colpo esterno non si tratterà, anzi i padroni di casa danno prova di grande forza affondando l'avversario, dando una manita in fatto di colpi da ricordare ai nero-verdi che superano un penalty mandando all'aria una buona prima frazione di gioco, spegnendosi nella ripresa concedendo spazi e rigori agli avversari. Con l'immagine a cura di Paolo Arcangeli ci concentriamo sul match, l'inizio di marca ospite, Angeli lanciato in profondità da Lillai trova a Franciosi a negargli la gioia dei gol. La risposta è Torconchi affidata allo scavetto cercato dalla distanza dopo la di Casoli, pallone alto. La concezione di spazi permette alle scuole di giocare a viso aperto, Barducci sfrutta al meglio uno degli spazi concessi, a Lillai non riesce a toccare il pallone che giunge comunque a Brigliadori, il quale scarica tra i guantoni di Issa. Il Torconchi manovra bene la sfera e si affida alle concursioni dalla distanza, non è giornata per mani. Quando invece si gioca a terra, Bomber Pasolini trova a Morelli, a Negalli la gioia del gol. Il numero 9 di casa si rende ancora protagonista quando Casoli da calcio piazzato lo invita alla deviazione di testa, pallone fuori. Ma si gioca ormai una porta sola ai Ferrari di testa, c'entra il legno alla destra di Morelli. È un avvertimento. Pasolini cerca gloria personale ma non è fortunato, mentre sul versante opposto Brigliadori si conquista i penalti del possibile 0-1. Angeli si presenta da dischetti ma si lascia ipnotizzare da Issa al suo terzo rigore parato in questo inizio di campionato. Nella ripresa il Torconchi cambia nuovamente marcia. Pasolini ci prova da calcio piazzato ma non incide. Incide come quando il contropiede servito da Brighi bucca la retroguardia ospite per l'1-0 dei padroni di casa. Il gambetto la risponde con Barducci mai pescato in fuorigioco. È la volta di Brigliadori ma la conclusione non risulta precisa né potente. Ad imitarlo dalla parte opposta ci pensa Brighi. Poco dopo il Torconca trova il raddoppio. Nell'occasione viene espulso da altri. Dagli 11 metri Casoli firma il bis. 2-0 per il Torconca. Ci prova a tenere alta la bandiera per gli ospiti Ambrosini ma Issa risponde presente. Il gambetto la commette un'alta ingenità. Altro rigore procurato a favore dei padroni di casa. Questa volta da discretto va Brighi per il 3-0. Il poker poco dopo sembra cosa fatta. Brighi smarca Pasolini che calcia in bocca a Morelli che nell'occasione si rifugia in corner. Finale targato Michele Ferrani. Piatone al centro per il 4-0 del Torconca. Mentre da un uscita fuori aria di Morelli i giocatori da centrocampo inventano una pallombella beffarda che sa di manita. Finale 5-0 per il Torconca. E punizione dura da digerire per il Gabetola che nonostante il tentativo finale di Ambrosini non può far altro che alzare bandiera bianca di fronte allo strapotere del Torconca.